Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Non ci sarà qualcuno che deciderà, però anche quel decreto europeo dice che la detenzione può essere solo l'ultima razio, che comunque deve essere un provvedimento individuale. Non sembra campata in aria per chi ha a cuore determinate cose. A lei sembrerà assurda, ma per fortuna non decidiamo noi e lei. E' così importante l'indipendenza, sono situazioni che ci fanno capire quanto sia importante la divisione dei poteri, perché l'indipendenza della magistratura è fondamentale. Nel caso in cui delle persone debbano subire punizioni ingiuste, per fortuna ci sono persone che si possono opporre. Perché Giorgia Miloni è finita nell'angolo in cui era finito Berlusconi? Beh, perché forse vengono dallo stesso angolo. Laura Marcia.